La buona volontà di cambiare questa città è un risultato eccezionale. Lei immagino che seguirà da vicino Virginia Raggi da una mano importante sulle tante sfide perché lo sappiamo adesso c'è la gioia per la vittoria ma c'è anche un po' la consapevolezza del peso da portare sulle spalle. Sì, è un peso che portiamo sulle spalle già da parecchi anni a tutti i livelli istituzionali perché Virginia, come altri tre consiglieri, in questi anni hanno fatto un lavoro enorme nel Campidoglio di Mafia Capitale. Noi a livello parlamentare abbiamo dimostrato un movimento politico credibile che rispetta gli impegni con i cittadini quindi è una vittoria di tutto il gruppo. Lei personalmente quanto sarà impegnata nel governo di Roma insieme a Virginia Raggi? Insieme a Virginia, insieme a tutto lo staff che Virginia ha scelto, insieme a tutti i portavoce che lavorano a rete già da anni saremo in prima linea accanto a lei perché questa è una vittoria di gruppo.